Buonasera a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Allora ragazzi, allora ragazzi, l'intervista di Gerry Cardinale, l'intervista di Gerry Cardinale davanti, dopo aver ricevuto il premio Leonardo da Vinci Niaf, da Vinci Niaf, non so se si Niaf per la finanza. Quindi un premio molto ma molto importante che il nostro numero uno ha ritirato davanti niente di meno che al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Insomma, non ci prendiamo in giro, è inutile girarci intorno, Gerry Cardinale non è Nufes, non è l'ultimo arrivato. E quindi, e quindi, e quindi questo fa ben sperare. Ovviamente adesso non voglio cadere nello stesso errore di un po' di tempo fa, di quando è arrivato, di quando fece quell'intervista accorata, proprio a cuore aperto, quando lui si definì un custode, quando lui disse io di qua, io di là, eccetera eccetera. Poi ci sono stati anche dei momenti dove io uso Gastmetta Pierce, dove lo volevo fuori dalle palle, perché poi ragazzi, diciamoci la verità. Non è che uno, se inizia un calciomercato e si presenta con la vendita di Tonali e il, diciamo il, come chiamarlo, il licenziamento di Paolo Maldini, voglio dire, voglio dire, voglio dire, non è che uno poi da un momento all'altro deve sempre e comunque continuare a parlare bene di una persona se poi i fatti dicono altro. Poi c'è da dire che in quel momento lì io l'ho criticato perché a me non stava bene quello che stava succedendo. Poi invece avevano ragione quelli che dicevano aspettiamo, vediamo che cosa succede alla fine del calciomercato, eccetera. E alla fine un calciomercato importante è stato fatto, un calciomercato perlomeno di una squadra molto presente, molto viva, molto vigile, quindi da quel punto di vista l'avevamo riapprezzato, almeno personalmente. Al di là di tutto questo, qui stiamo parlando di un manager, di un grande personaggio, insomma, del mondo proprio della finanza, che ha un progetto visibile, ha un progetto tangibile. Il Milan sta costruendo il suo futuro e lo sta facendo veramente per bene. Partendo dal discorso stadio che ovviamente è un discorso proprio centrale e che il nostro presidente ha rimarcato ancora una volta, insomma, la ferma volontà di andare avanti, di costruirlo, quindi ancora una volta questo voler dare ai tifosi del Milan il giusto posto dove vivere le proprie emozioni. Quindi un presidente, insomma, che è il numero uno, Redbird, il numero uno di Redbird, che ha veramente, insomma, fatto un'intervista importante, insomma, ha detto delle cose veramente interessanti, non so se l'avete vista, se non l'avete vista fatelo perché c'è in rete, insomma, un'intervista che dura 7-8 minuti, ha parlato anche del discorso Zlatan Ibrahimović, che a sua volta ha fatto un'intervista molto lunga e molto dettagliata al Festival di Trento, molto particolare, sempre con le sue battute, diciamo, sempre con il suo volere essere personaggio, volere essere Dio. È uno spettacolo, Zlatan Ibrahimović, è un personaggio veramente a 360 gradi e il nostro Jerry Cardinale ha fatto capire, insomma, che dipende solo ed esclusivamente da lui perché il Milan lo rivuole, perché un personaggio come lui sarebbe importante sotto tanti punti di vista e quindi quando Zlatan avrà deciso se vorrà intraprendere questo tipo di discorso con il Milan, il Milan sarà pronto ad accoglierlo perché Zlatan è un'azienda, Zlatan rappresenta qualcosa di importante, di grande, quindi sia dal punto di vista proprio dell'immagine, dell'impatto mediatico che ha Zlatan, sia dal punto di vista economico perché ovviamente un personaggio come lui, scusate, più che economico proprio di campo, un personaggio come lui nello spogliatoio aiuterebbe e non poco e non poco, insomma, l'ambiente Milani, ragazzi, una parola al momento giusto fa la differenza, quindi sarebbe veramente importante. Adesso non sappiamo in futuro se ci sarà questo matrimonio tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic e soprattutto non sappiamo quale sarà il vero e proprio ruolo di Zlatan all'interno della società, però certo è che qualsiasi possa essere il ruolo, qualsiasi sarà il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, una sua presenza assidua o meno a Milanello penso che sia abbastanza scontata perché Ibra è un uomo di campo, è un uomo di sport, è un uomo che ovviamente condividerebbe tante situazioni pre-gara e post-gara, quindi servirebbe veramente a 360 gradi, quindi molto ma molto bella l'intervista del nostro numero uno, molto bella l'intervista di Zlatan, molto simpatica, c'è stata poi quella battuta, quel botte risposta con Balotelli a distanza, anche abbastanza risposte anche abbastanza sciapite da parte di Balotelli, va bene, ma però al di là di questo ho apprezzato tanto l'intervista di Jerry Cardinale perché questa vision, questo progetto veramente importante è sotto gli occhi di tutti, poi il Milan finalmente adesso è inattivo, non abbiamo problemi di bilancio, non abbiamo problemi a livello finanziario, stiamo veramente cercando di mettere le basi per costruire, ne parlano tutti, lo stadio più bello del mondo, poi siamo veramente curiosi di iniziare a vedere magari qualche rendering, qualche immagine, qualche cosa in più insomma, perché è chiaro che si può parlare, si può però poi ognuno fantastica con tutto quello che si può immaginare, io penso che sarà uno stadio stile americano, non so se avete visto gli ultimi progetti americani, questi stadi veramente imponenti esternamente, adesso si vuole creare qualcosa di bello anche dal punto di vista, ovviamente anche dal punto di vista estetico e ovviamente dopo aver vissuto quello di sea l'altro giorno è chiaro che ancora di più mi rendo conto di quanto sia indispensabile avere uno stadio moderno, funzionale, con tutti i servizi, con tutto quello che è possibile e immaginabile, quindi oltre al discorso estetico, al discorso economico, al discorso diciamo di immagine, tutto quello che vogliamo ma si parla veramente di un discorso anche legato veramente alla comodità dei servizi che nel 2023 non si può ancora diciamo accettare certi tipi di situazioni, si parla di un discorso quinquennale, ha parlato lui per quanto riguarda il progetto stadio, l'obiettivo è quello di arrivare alla stagione 2028-2029 con lo stadio pronto, sarà complicato farlo più che altro perché c'è bisogno di accelerare i tempi adesso per avere tutti gli ok definitivi, però poi penso che sarà veramente la volta buona questa qui, speriamo bene, speriamo bene, che altro dire, Wagné, che altro dire, la situazione è questa qua, domani rigioca la nazionale, questa volta a Wembley contro l'Inghilterra, una partita ben diversa dal punto di vista insomma dell'avversario che andremo ad affrontare, quindi vedremo quello che sarà poi, questa nazionale purtroppo è ancora orfana di tanti giocatori importanti per vari motivi, sia per gli infortuni sia per il discorso legato alle scommesse, ma oggi non ne voglio parlare di scommesse eccetera eccetera perché se ne parla ovunque quindi basta, anche basta, vediamo poi tra l'altro che usciranno degli altri nomi stasera, in diretta, non ce l'ho capito fatto, ormai dove vanno detto, quasi qua si fanno una rete unificata, un servizio, ma del sistema parli, Wagné, ma ditemi una regola, ditemi una regola, vabbè ragazzi dai questo è quanto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, condividete se ne avete voglia, tasto grazie per le donazioni e abbonamenti, vi voglio bene, forza la lotta e vincerai, non ti lasceremo mai, ciao a tutti.